caro lambre nedetto buongiorno ci hanno mandato un tuo video si si ci hanno mandato un video di lambre nedetto di ieri che dice che le canarie sono morte no ma proprio morte 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 spazzate via piz di ez non si capisce neanche cosa sta dicendo beh insomma quello che ci ha insomma ci ha fatto fare questo video oggi è per replicare nel nostro modo e far capire che alla fine nel tuo video hai detto qualcosa forse che non va molto mi sa che ha detto un mare di castronate ma ascoltiamolo insieme sentite cosa ha detto piz di ez ragazzi allora come va mazzela oggi parliamo un po delle canarie altro posto che varrà spazzato via da questa crisi del pippo virus ne parlo perché sono stato il primo praticamente che ha fatto vedere le canarie allora intanto le canarie le ha scoperte lui e le ha fatte vedere lui quindi nessuno quanti anni avrà lambre nedetto tipo 102 per averle scoperte lui ha mai fatto vedere le canarie in video vabbè ma ascoltate le sentite continuate a sentire cosa ma poi sono spazzate via no ma ascoltate ascoltate il problema che i primi arrivati i primi arrivati erano persone serie gente che arrivata ha fatto attività e compagna varia poi purtroppo hanno iniziato sempre arrivare sempre più sgaboloni sempre più scappati di casa sempre più ratta ratta io l'ultima volta che sono andato per esempio a tenerife ho detto non ci metterò mai più piede sono rimasto scioccato non tanto da da tutti questi sgaboloni tutti ma soprattutto da dal clima di di vipere che si era formato cioè tutti che sono lì che si sparlano uno dietro con l'altro allora intanto secondo me bisogna avere un po di coerenza no nel nella comunicazione quello che si dice perché il giorno prima mette un po su facebook e dice che il canarie sono un posto migliore per andare per non amarsi coronavirus il bel posto per andare da pensionato con con il clima più bello dove si sta bene e poi invece ieri mi fa sto tipo di video che poi siamo tutti scappati di casa sgaboloni che voglio dire va bene sicuramente sicuramente nella sua nella sua lingua ma io dico allora perché ce l'avete sempre su con noi italiani non è che siamo solo alle canarie siamo in tutto il mondo ma non è possibile veramente ma forse secondo me il nostro amico l'ambrenedetto non si accorge o forse non sa magari non ha studiato bene il mercato delle canarie che gli italiani qui a tenerife sono il fanalino di coda del turismo perché il turismo alle canarie vive di inglesi tedeschi americani russi la comunità italiana ha anche superato quella inglese oltretutto sì la comunità dei residenti ma turisti ciao peppo se le canarie dovessero vivere con il turismo italiano staremmo freschi proprio cioè ma poi in ogni caso voglio dire anche un'altra cosa che i prezzi non è che li facciamo noi italiani giusto perché vediamo qui a rubare i soldi prezzi dell'immobiliario li fanno le agenzie immobiliari italiane i prezzi li fa il mercato perché se continua ad arrivare gente come in tutto il mondo i prezzi aumentano di certo non diminuiscono anzi ci terrei a dire che i prezzi aumentano e lievitano proprio perché ci sono personaggi che dicono che ci sono posti dove si compra bene la gente si informa e ci va e in quel momento aumentano i prezzi comunque sentite cosa continuato a dire il nostro amico sentite sentite stavo dicendo va bene se vai giù due settimane giusto per svernare ma altrimenti le canarie vivere le canarie vivere le canarie deve essere proprio cioè devi essere proprio caso umano nel senso posso capire un pensionato posso capire che giù a lavorare che fa l'attività nel senso ristorazione immobiliare ma ragazzi lì è da spararsi proprio da prendersi due robe bam nei coglioni perché c'è le canarie se andate giù a tenerife fra lanzaro e fra fra plan di las america l'os cristiano su quelle zone lì ragazzi sembra di essere a un ricovero di pensionati a cielo aperto cioè c'è roba roba da roba la nero psichiatria ditemi voi come si fa a svernare in due settimane se l'inverno ovunque in italia perché sta parlando di italiano dura almeno sei mesi parti a novembre torni a novembre bello svernare venire alle canarie per tornare in due settimane bello svernare complimentoni proprio un genio direi che forse magari non si ricorda che quelli che svernano fanno da tre mesi a sei no no due settimane comunque al di là di quello ma cioè avete sentito cosa ha detto casi umani cioè quelli che secondo lui vivono a tenerife o alle canarie che non sono pensionati quindi che lavorano come lavorano come noi per esempio sono casi umani secondo lui siamo tutti casi umani no capito questo video qui infatti è un po riferito un po la comunità italiana che vive qui a tenerife no che vorremmo anche sentirla perché noi abbiamo fatto abbiamo fatto questo video sperando anche di raggiungere indipendentemente dal fattore che lui dica che che ci siamo tutti vipere che uno parla male dell'altro a me questo sinceramente in questo momento non mi interessa visto tutto quello che sta succedendo quello la cosa fondamentale è che noi italiani già siamo un popolo purtroppo un po disunito allora cerchiamo di non fare in modo che anche un nostro connazionale stesso che anche lui è venuto qui e ha sfruttato per fare della sua immagine quello che è oggi le canarie perché è stato così perché le ha scoperte lui le canarie esatto ma se uno vai a vedere i suoi video non faceva altro che andai in giro per i supermercati a far vedere questo per vedere che tutto costava poco che le case si compravano con quattro noccioline e ovviamente cosa è successo che tutto è lievitato perché ovviamente tra noi ma i pezzi li facciamo noi tra lui e poi mi ricordo anche la comunicazione di varie di vari mainstream che pubblicavano articoli che dicevano che si veniva a vivere a mille euro si faceva i signori con a tenerife a tenerife e alle canarie ovviamente poi ha scaturito tutto il turismo di diciamo low cost che ha fatto lievitare ovviamente i prezzi cioè non è che ci vuole un genio dell'economia quindi mi piacerebbe che indipendentemente da chiunque ci ami o ci odi come persone come come lavoro che facciamo che si unisse in questa situazione come c'è stata anche quella del vi ricordate del 3 di marzo dove barbara d'urso intervistava quella famosa signora vita tutto il cinema del coronavirus siamo al più o meno allo stesso livello ragazzi quindi visto che comunque dobbiamo dar parola anche a noi stessi e far capire che realmente non è così che non può una persona del genere denigrare le canarie ma soprattutto non le canarie come isole ma proprio gli italiani che sono qui che comunque ci ha dato a tutti delle vipere ci ha dato a tutti dei casi umani se viviamo qui quindi capito ragazzi se state ascoltando siete qui alle tenerife e avete un ristorante avete un bar siete gente che si fa il culo dalla mattina alla sera che lavora siete tutti i casi umani siete tutti i casi umani perché solo i pensionati vanno bene alle canarie a tenerife poi adesso che se avete le case tutto tutto morto moriremo tutti ma scusatemi cioè adesso va bene tutto la libertà di opinione di parola ce l'hanno data e continuiamo non c'è problema però io dico animo ragazzi perché comunque noi abbiamo tante bellissime cose come italiani quindi facciamoci vedere cerchiamo come comunità qui a tenerife di essere più uniti che mai perché questo è il momento dove ci vogliono distruggere e assolutamente dobbiamo far vedere di essere preparati come lo stanno facendo anche in italia assolutamente sì quindi questo video che stiamo facendo Luca e Selvaggia di tenerife surprise lo stiamo facendo proprio perché vogliamo far arrivare il messaggio e non lo stiamo facendo chi non è qua stiamo facendo proprio a nome nostro tra italiani perché anche se viviamo qui e siamo residenti qui siamo comunque sempre italiani e in ogni caso orgogliosi di esserlo assolutamente e proprio per questo quindi vi invitiamo a commentarci il vostro pensiero a condividere questo video soprattutto se siete del pensiero che l'ambrinandato ha sparato un mare di capronate in questo video dicendo che le canali sono morte dando a noi italiani come ha ribadito più di una volta degli sgaboloni e tutto quanto e quindi di continuare a seguirci e ci vediamo alla prossima ah e se per caso dovreste essere d'accordo con lui non c'è problema scrivetecelo lo stesso perché ci fa piacere anche ascoltare altri pareri alla prossima ciao ciao l'ambrinandato alla prossima